Un cavallo che galoppa? Ottima scelta! Bene, amici miei! Per oltrepassare la sala dei gattini e dei gomitoli dobbiamo galoppare, galoppare, galoppare come fanno i cavalli! Desi è un cavallo velocissimo! Forza, mettiamoci a galoppare anche noi! Siete nella vostra bozzona! Bene! Ora conto fino a tre Poi galoppate con me! Arr! Cos'è quello? Non riesco a capire cosa stiano costruendo! Wow! Evviva!